Andrea Campoli è conosciuto in Garfagnana con il nome di Taton o Cantafole di Sant'Anastasio, in quanto da alcuni anni porta in giro nelle feste e nei paesi i racconti di un tempo, le fiabe o le fole. Da alcuni anni si è dedicato anche alla stesura di testi, pubblicando tre libri, l'ultimo dei quali, edito da Garfagnana editrice, è stato presentato alla Sala Pallocchiale Monsignor Maffei a Castelnuovo Garfagnana. All'incontro hanno partecipato il sindaco Tagliasacchi, Don Alex Martinelli e Francolino Bondi in veste di moderatore. Titolo del libro, Personaggi. Andrea Campoli, rigorosamente in dialetto garfagnino, durante l'incontro ne ha raccontato e motivato la presenza nel libro. Dopo aver scritto gli altri due libri, mi sembrava opportuno celebrare anche quei personaggi che hanno caratterizzato la mia vita. Per cui ho deciso di metterli su carta e renderli in questa maniera immortali. Al termine della presentazione, l'autore ha divertito il pubblico raccontando le sventure di un contadino garfagnino. Dopo il successo della rassegna letteraria La Bella Estate, proseguono quindi le iniziative culturali nel centro garfagnino. Andrea Campoli, che io ho desiderato molto averlo qui con noi, perché io credo che sia accanto a tante persone importanti, tanti nomi di livello nazionale e internazionale, è giusto anche mettere accanto, a fianco, anche scrittori, personaggi della nostra terra, che sono in grado di illustrare, di portare avanti e di far conoscere soprattutto ai nostri giovani, le nostre tradizioni, la nostra bella terra e tanta gente buona, generosa e di valore che ha avuto.